Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, Stefano Parenti Personal Trainer a Praga Oggi andiamo a fare la seconda parte per quanto riguarda il 4 andro Ieri proprio ho fatto l'analisi del sangue e l'ho ricevute subito Perché in Repubblica Cieca ovviamente le cose funzionano molto molto meglio Questo non vuole essere una critica nei confronti dell'Italia Anzi, vuole essere una critica nei confronti dell'Italia Perché nel 2022 è inaccettabile Molti dei miei clienti per esempio mi dicono Ah, ho bisogno di aspettare una settimana prima di ricevere l'analisi del sangue Il testosterone arriverà tra un mese Ma ragazzi, ma dove siamo? Dobbiamo in qualche modo comunque farci sentire E l'Italia deve migliorare nella sanità italiana Deve migliorare assolutissimamente Ha ancora molto da imparare, ancora molto da crescere Questa non vuole essere una critica nei confronti di chi lavora nella sanità Ma chi non è trascura la sanità Che è una cosa molto molto importante È inaccettabile ricevere degli esami del sangue completi Anche di quelli ormonali Dopo una settimana Addirittura in certi casi alcuni particolari valori Dopo un mese È ridicolo Tolto questo Andiamo a parlare della mia Dopo 5 settimane L'analisi del sangue Eccolo qui Il 4 Andro Quindi mi raccomando Se volete Questo l'ho preso su CamoCam Se volete supportare Oppure ordinare su CamoCam Il mio canale Il mio lavoro Potete utilizzare il codice sconto STE20 Avrete comunque lo sconto del 20% Su tutti i prodotti che il sito vende Ovviamente sempre a scopo di ricerca Perché di questo che stiamo parlando Il 4 Andro Vi faccio una piccola ricapitolazione Rispetto alle prime 4 settimane E quello che è successo poi successivamente Cioè anzi le prime Una settimana e mezza Ho fatto quel video lì E poi dopo la quinta settimana Quali sono le sensazioni Sono cambiate Sono sempre le stesse E poi andiamo a vedere Effettivamente come sono Migliorati i valori Dal punto di vista del testosterone E via discorrendo Allora La prima settimana e mezza Fu subito un forte kick Innanzitutto da dire Da precisare che il 4 Andro Io lo sto prendendo a 100 mg Diviso in due assunzioni Al giorno Quindi la prima settimana e mezza Ho avuto un grandissimo kick Una grandissima voglia di fare Una grandissima motivazione Questa motivazione Passando poi da seconda a seconda Terza settimana Quarta settimana È aumentata O è rimasta la stessa È rimasta ahimè La stessa identica sensazione Lo stesso identico feeling Anzi non sentivo più quella carica Però posso dire che Ho mantenuto La stessa condizione iniziale Di quella carica Quello aumento di forza Di energia Perché non ho fatto Né più E nemmeno Quindi mi sono rimasto Praticamente sulla stessa Linea D'onda Quindi a livello comunque Di sensazione Di feeling Non mi sono sentito Un super uomo Assolutamente No Ma poi andiamo a vedere Comunque nei valori Dell'analisi del sangue Le cose sono cambiate Sensibilmente Innanzitutto È da sottolineare Che il livello Del testosterone Si è salito Il livello Dell'estradiolo Si è abbassato Ma questo anche perché Per tutti coloro Che sono scritti sul padron Sanno come comunque Io ho fatto Ho impostato Questo esperimento Con il 4 andro Sanno che ho utilizzato Comunque diversi prodotti Per andare anche a controllare Quell'aspetto Dell'aromatizzazione E favorire più Il rilascio appunto Del testosterone Il testosterone è libero È aumentato Le SHGB Sono E BG Sono Aumentate Nel range ottimale Perché l'avevo veramente Molto 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 Basso Il testosterone Iniziale Era molto 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 Basso Il beta Estradiolo Era abbastanza Alto Ma ancora nel range E la brolatina Pure Si è abbassata Invece Nel Nel Primi esami Del sangue La brolatina Era abbastanza Un po' più Altina Del Normale Per questo andremo a vedere Tutti quanti i valori Dell'analisi del sangue Nel dettaglio Proprio Valore per valore Nella mia live di Twitch Alle 9.30 Del giovedì Perché qui Quello che voglio fare È solamente Andare a Darvi La mia Personale Impressione Come questo prodotto Sia effettivamente Funzionale Ma che non è Secondo me Sufficiente Quando si affrontano Dei periodi Particolari Di Cutting O non è sufficiente A 100 mg A 100 mg Andiamo a vedere Quali sono i cambiamenti Dal punto di vista Anche dei valori Epatico Lipidico E via discorrendo Il mio colesterolo È anche Migliorato A 100 mg Con il 4 andro Sensibilmente Ma è migliorato Ho avuto Un incremento Delle HDL Un abbassamento Un abbassamento Delle LDL E un abbassamento Del mio colesterolo Totale Che era già Abbastanza Altino Poi andiamo a vedere Il punto di vista Delle transaminasi Anzi Devo dire Quello però Non vuol dire nulla Perché magari La volta che ho fatto La volta scorsa Che ho fatto L'anasi del sangue Magari ho fatto Un leg day Oppure non mi ricordo Comunque erano Un pochettino Più alte Del normale Invece in questo caso Devo dire Che non ha avuto Nessun tipo di impatto Però Questo si può dire Non ha avuto Nessun tipo di impatto Negativo Sulle mie Transaminasi Dal punto di vista Renale Nessun tipo Di impatto Completamente nel range Completamente perfetto Anzi Il dottore mi ha detto Sanno benissimo Deve funzionalità Renali È perfetta Quindi anche Frutto dell'integrazione Che sto utilizzando Oppure È anche Da dire Che il quattro andro Non ha E mantiene La sua promessa Di essere un comprormone Non medilato E non va a dare E non ha queste caratteristiche Così impattanti Sia su fegato E su reni Per quanto riguarda Invece dal punto di vista Del cutting Vale la pena Utilizzare il quattro andro In una fase di cutting Che noi ben sappiamo Tutti noi sappiamo E quando andiamo a fare Comunque una fase di cutting I nostri livelli Testosterone Vanno a Scendere To the sink Proprio a Sprofondare Nell'abisto Non ci credete Credete a tutti coloro Che hanno fatto L'analisi del sample Che sono comunque Dei ragazzi Che sono natural E vedrete Che tutti Hanno un testosterone Veramente Basso O quasi sotto Addirittura Certe volte anche sotto Il range Quasi ipogonadi Ok Questo è quello che succede Quando comunque Si sta in un deficit Calorico Estremo Questo non vuol dire Che non riesci Comunque a mantenere Massa magra Perché comunque Dei soggetti Riescono Assolutamente A mantenere Massa magra Anche a costruire Massa magra Ma questo è un altro discorso Che è meglio Che non vi confonda L'idea Il punto che voi Dovete comunque Fissare È che Quando siete in un deficit Calorico Ovviamente Il nostro livello Del testosterone Va ad abbassarsi Fortemente Io come ho detto Stavo in un deficit Calorico E sto in un deficit Calorico Quindi Il 4 andro Si Nello stesso Deficit calorico Ha alzato i miei livelli Del testosterone Di ben Quattro punti Poi andremo Analizzato tutto Bene In una live Di Twitch Ma Non è Secondo me Sufficiente A 100 mg Per avere Quel feeling Di sentirti Motivato Meno letargico Più forte Più performante E via discorrento Secondo me È un prodotto Validissimo Per tutte quelle persone Che magari Non si allenano In maniera pesante O non fanno Magari Powerlifting Bodybuilding Fitness In generale A che fare con i pesi Si Assolutamente 100 mg È un dosaggio Che può essere Utilissimo A quelle Determinate Persone Oppure Se noi Vogliamo comunque Andare ad ottimizzare I nostri livelli Di testosterone Proprio A livelli Livelli Marcati Allora In quel caso Dovremmo osare Di più Alzare Il dosaggio 150 200 mg Ci sono alcune persone Che anche io Conosco Personalmente Che hanno portato Anche a 250 mg Al giorno In questo caso Riusciamo ad ottimizzare Le sue caratteristiche Nulla toglie Che comunque È un'ottimissima Base E resterà Sempre Un'ottimissima Base Per quanto riguarda Un ciclo Di SARMS In linea generale Perché come potete vedere Riesce a mantenere Comunque i livelli Del testosterone In un range Accettabile Poi abbiamo Il SARMS Che comunque va Ad interagire Con i recettori Di androgeni Il feeling Generale È ottimo Quindi come base Assolutissimamente Sì Come TRT Non lo vedo A 100 mg La soluzione Ideale Assolutissimamente No Molto probabilmente Poi dipende Da soggetto A soggetto Però tutti Come non l'ho fatto Solo io Questo esperimento L'abbiamo fatto In un gruppo Di persone E devo dire Che tutti Abbiamo più o meno La stessa Sensazione Lo stesso feeling E gli stessi Esami Del sangue Quindi con questo Ragazzi Era proprio per Sottolineare Quanto il patrolando Sì Sì È un ormone Molto efficace E come vedremo Poi nelle live di twitch Aumenta veramente Converte veramente In testosterone Ecco un'altra cosa Che mi dimenticavo Di dire Che non va Assolutissimamente A interagire Con LH LFSH E questa è una cosa Che mi ha Fortemente stupito A 100 mg Almeno A 100 mg Sempre in questo Dosaggio qui Il mio LH Il mio FSH Il mio ormone L'utilizzante È rimasto Come era 5 settimane Fa Quindi Uguale Senza nessun tipo Di variazione Né più Né meno Quindi questo Mi fa capire Che anche il livello Di soppressione Sia Molto Irrisorio Dal punto di vista La produzione Naturale Endogena Del testosterone E quindi È un prodotto Che quasi Si può Utilizzare Ovviamente Utilizzando Una strategia Di Tappering Utilizzare Senza fare Poi successivamente Un PCT Questa è la mia Personale Opinione La mia Personale Comunque Parere Spero che Questo video Vi sia stato D'aiuto Mi raccomando Ci vediamo Nelle live Di giovedì Dove Andremo a Approfondire Questo Determinato Argomento E mi raccomando Un like Un commento Per l'algoritmo Di tipo Così il mio canale Sempre va Più in alto Si spera E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao ragazzi Alla prossima Alla prossima